Musica Sabato 6 gennaio, buona festività dell'Epifania a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con informazione del TG4 dedicato ai principali fatti, eventi, notizie e manifestazioni dal territorio Iniziamo con la politica nazionale, sentiamo l'opinione del professor Beppe Ghisolfi, il nostro opinionista di fiducia sull'attuale situazione del governo Meloni, in particolare per quanto riguarda alcune vicende di cronaca che hanno coinvolto dei parlamentari di Fratelli d'Italia Si continua a parlare in questi giorni del Far West di Capodanno Un episodio sgradevole in cui è stato coinvolto, non si sa a quale titolo, perché ancora non c'è chiarezza e forse non ci sarà mai un deputato di Fratelli d'Italia Ora, noi vorremmo dare un consiglio a Giorgia Meloni, che non ha bisogno ovviamente dei nostri consigli perché è una donna che ha dimostrato quali sono le sue capacità e che l'è apprezzata ovviamente in tutta Italia Ma secondo noi vale sempre il proverbio, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei Ecco, lei non può essere accompagnata da personaggi di questa natura Cioè ogni giorno c'è un rappresentante di Fratelli d'Italia che ne combina una Ebbene Giorgia, liberati da tutti questi personaggi Non temere la ripercussione dei voti, perché liberandoti da questa zavorra i voti aumenteranno Tu sei brava, sei molto capace e non hai bisogno di avere intorno questi personaggi che ogni giorno ti fanno perdere un po' di stima Passiamo ai trasporti, dopo sei anni e mezzo d'attesa, il 15 gennaio la linea ferroviaria Noviligure-Tortona riaprirà i passeggeri Lo stop è stato causato dai lavori del terzo valico È stato uno degli argomenti dell'ultima assemblea dell'associazione Pendolari Novesi I pendolari potranno riutilizzare la linea per Milano con una settimana di ritardo Per problematiche relative all'addestramento personale, alla conduzione dei nuovi elettroteni e alla turnistica Ha spiegato il presidente dell'associazione Pendolari Novesi, Andrea Pernigotti Veniamo alla cultura da Torino Oltre 62 mila persone hanno visitato il Polo del Novecento di Torino nel 2023 Oltre 31 mila le presenze agli eventi per circa 500 eventi complessivi E un aumento di utilizzo delle sale superiore al 15% Protagonisti di questi risultati, 24 istituti culturali partecipanti del Polo Dimostrando ancora di più l'urgenza e l'importanza del lavoro di presidio democratico, sociale e culturale Che tutti insieme portano avanti Restiamo a Torino Cinque appartamenti della città metropolitana Sono stati dati alla Croce Rossa Ospitano alcune famiglie con bambini Tutte in attesa del riconoscimento della protezione internazionale Vediamo a proposito il servizio Cinque appartamenti libri di proprietà della città metropolitana In uno stabile di via Brione 38 a Torino Sono stati concessi in comodato gratuito al Comitato Provinciale della Croce Rossa E, d'intesa con la Prefettura, ospitano alcune famiglie con bambini Tutte in attesa del riconoscimento della protezione internazionale Si tratta di 46 persone, tra adulti e minori, appartenenti a nuclei familiari di diverse nazionalità Tutte presenti sul territorio da oltre un anno, già inserite nella rete di inclusione e solidarietà I bambini frequentano le scuole elementari e medie Si tratta di un'operazione che, ispirandosi al modello del co-housing Mette a disposizione di ogni famiglia un locale dedicato Due appartamenti, sempre di proprietà della città metropolitana Sono inoltre dedicati a spazi comuni, come il refettorio e un ufficio della Croce Rossa Valentina Cera, consigliera metropolitana delegata alle politiche sociali e alle politiche giovanili Quindi questo stabile, questi sette appartamenti, sono un modello che lancia città metropolitana Un modello di accoglienza diffusa, un modello di integrazione di queste persone e di queste famiglie Sì, è il contributo della città metropolitana, il primo, credo, contributo che città metropolitana dà al percorso di integrazione di queste famiglie che sono qui, insomma sono arrivate nel nostro paese e stanno facendo il loro percorso di accoglienza Sono 46 le persone che riusciamo ad ospitare in questo stabile Un ringraziamento va ovviamente alla Croce Rossa per aver organizzato questo posto che dà la possibilità a queste famiglie di avere dei luoghi propri, privati delle vere e proprie case, stanze private ma anche dei luoghi comuni come il refettorio dove si può mangiare insieme dove ci si può appunto conoscere ed integrare E ora all'agroalimentare, altra grande vittoria per Coldiretti Il ministro dell'agricoltura Lollo Brigida insieme ai ministri delle imprese made in Italy Urso e della Salute Schillace hanno firmato la proroga dell'etichettatura d'origine fino al 31 dicembre 2024 Con questo provvedimento precedentemente in scadenza al 31 dicembre 2023 le disposizioni nazionali in materia di indicazione dell'origine in etichetta del riso, del grano duro per paste di semola di grano duro, dei derivati del pomodoro, delle carni suine trasformate del latte e dei prodotti lattiero caseari sono prorogate di un anno come fortemente voluto da Coldiretti Ora parliamo di storia Eccidio di Ceretto, Busca e Costigliola e Saluzzo Siamo nel Cunese pronte a celebrare l'ottantesimo anniversario Appuntamento domenica 7 gennaio e martedì 9 gennaio con la partecipazione delle scuole e dell'istituto comprensivo di Busca Vediamo il servizio La città di Busca insieme col comune di Costigliola e Saluzzo organizzano la commemorazione dell'ottantesimo anniversario dell'ecidio di Ceretto che si terrà domenica 7 gennaio col seguente programma Alle 9.15 ritrovano i pressi della fermata di Ceretto Alle 9.30 la deposizione al Cippo Alle 10 la celebrazione della Messa Alle 10.45 la deposizione della Corona ai Caduti la commemorazione ufficiale con gli interventi dei sindaci di Costigliola e Saluzzo, Busca e Oriolo e l'orazione ufficiale pronunciata dal presidente della provincia di Cuneo, Luca Robaldo Alla cerimonia sarà presente una delegazione del comune di Oriolo in ricordo dei concittadini periti nell'ecidio Parteciperanno gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Costigliola e Saluzzo e di Busca e del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Busca Sarà presente il complesso bandistico Santa Lucia di Costigliola e Saluzzo Fa parte delle celebrazioni anche lo spettacolo programmato per martedì 9 gennaio alle 20.30 al Cinema Teatro Lux di Busca con la messa in scena di Ceretto 80 anni fa adesso con testimonianze, video, canti e coreografie a cura degli alunni delle classi quinte delle scuole primarie e del corso musicale della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Busca A metà dicembre del 1943 per stroncare la crescente formazione di bande di resistenti nelle valli cunesi il comando tedesco 1020 programmava 10 azioni di guerra le realizzava fra il 29, Frabosa Sottana e il 12-13 gennaio 1944, Valgrana il bilancio 242, tra virgolette, nemici uccisi, 300 case bruciate o distrutte si trattava di 10 cidi contando una volta sola i radi compiuti dalla medesima formazione nello stesso ciclo di rastrellamenti in più comuni confinanti il 7 gennaio come ogni prima domenica del mese il MIBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali offre l'ingresso gratuito ai musei e alle aree archeologiche statali si tratta di un'opportunità unica per i visitatori di scoprire e apprezzare la ricchezza culturale italiana grazie al contributo dei musei dei parchi archeologici e dei luoghi della cultura cultura vuol dire anche un ambiente pulito, un territorio sano 65 tonnellate di rifiuti sono state raccolte dai volontari di Plastic Free Onlus nel 2023 in Piemonte sull'intero suolo nazionale sono stati raccolti in totale 779.076 kg di plastica e rifiuti ma sentiamo i dettagli un bottino di 779.000 kg di plastica e rifiuti rimossi da spiagge, parchi e aree pubbliche cittadine frutto di ben 2.139 appuntamenti di pulizia ambientale organizzati in tutta Italia nel corso del 2023 è il risultato straordinario raggiunto dall'onda blu dei volontari di Plastic Free Onlus l'organizzazione impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica che può contare su più di mille referenti sul territorio nazionale in Piemonte si sono tenute 93 giornate di raccolta con la rimozione di 65.497 kg di plastica e rifiuti a ciò si aggiungono le sensibilizzazioni soprattutto verso le nuove generazioni grazie a 1029 incontri di cui 45 in regione tenuti durante l'anno negli istituti scolastici infatti si è riuscita a raggiungere 89.000 studenti con interventi personalizzati per fasce d'età per illustrare l'importanza di amare il pianeta non inquinando di effettuare una corretta raccolta differenziata e di come scelte alternative alla plastica possano farci prevenire ulteriori disastri ambientali siamo orgogliosi dei traguardi ottenuti nel 2023 dichiara Luca De Gaetano fondatore presidente di Plastic Free Onlus in pochi anni di vita la nostra organizzazione ha coinvolto oltre 250.000 volontari siglando 280 protocolli di intesa con le amministrazioni locali per intensificare l'attività sul territorio e premiando 69 comuni con riconoscimento Plastic Free in Piemonte i protocolli di intesa firmati sono 13 mentre i comuni premiati 2 Cuneo e Pio Sasco ben 51 città nel corso del 2023 hanno emanato ordinanze per vietare il rilascio deliberato in volo di palloncini e lanterne col prezioso supporto di aziende e di donazioni liberali infatti abbiamo inoltre trasformato numerose scuole in luoghi Plastic Free attraverso l'installazione di depuratori d'acqua così da permettere a ogni studente di riempire gratuitamente la propria borraccia evitando l'acquisto di bottigliette di plastica abbiamo poi salvato da morte certa 37 tartarughe accompagnando nella nascita 1911 e siamo riusciti a sensibilizzare gli italiani su quanto sia determinante un impegno un'attenzione costante oggi per permetterci di avere ancora un pianeta domani invito tutti i cittadini armati di buona volontà conclude De Gaetano ad avvicinarsi alla nostra grande famiglia per rendere l'Italia ancora più bella e pulita nel 2024 strade più sicure dalla città metropolitana di Torino quasi un milione di euro per i comuni che devono concludere i progetti in tutto sono 10 le amministrazioni coinvolte Villarpellice, Busano e Sparone, San Maurizio Canavese, San Carlo Canavese, Bussoleno, Chiomonte, Foglizzo, Lanzo Torinese e Robassomero per quanto riguarda invece il servizio civile 7 i posti disponibili nell'ampas della provincia di Cune in tutto il Piemonte si cercano 158 giovani per un anno di crescita e formazione che potrà anche essere utile per un futuro lavoro in campo sanitario Torniamo ai temi culturali che abbiamo già accennato poc'anzi dalla regione arrivano altri 7 milioni e mezzo per le associazioni culturali nel 2023 sono stati saldati oltre 67 milioni a più di 2.000 beneficiari ricordano gli assessori Tronzano e Poggio vediamo come sono stati distribuiti questi soldi per aiutare il comparto della cultura A metà dicembre ci eravamo impegnati a saldare entro la fine dell'anno un'ulteriore quota di contributi per le associazioni culturali e l'abbiamo fatto la ragioneria ha emesso pagamenti per 7 milioni e mezzo di euro che si aggiungono ai 9 pagati a inizio dicembre così gli assessori regionali al bilancio alla cultura Andrea Tronzano e Vittoria Poggio annunciano l'emissione di un ulteriore finanziamento per la cultura dall'inizio dell'anno proseguono gli assessori abbiamo saldato oltre 67 milioni di euro destinati a più di 2.000 beneficiari nonostante le difficoltà nei flussi di cassa attesi dalla regione gli assessori ricordano poi l'impegno di questa amministrazione nel sostegno alla cultura in ogni sessione di bilancio e la convocazione del tavolo per la cultura il prossimo 17 gennaio a riprova sottolinea l'assessore Poggio del confronto col mondo culturale che in questi anni non è mai mancato sarà l'occasione per costruire le future strategie culturali e amministrative volte a operare al meglio il ritardo dei pagamenti aggiunge l'assessore al bilancio Andrea Tronzano è un problema che pur trascinandosi da diversi quinquenni non ha impedito a questa amministrazione di mantenere l'impegno politico ed economico di sostenere tutte le attività culturali della nostra regione impegnandoci a saldare nel 2020 in piena pandemia contributi delle annualità 2017, 2018 e 2019 che erano rimasti in evasi Notizia dal Cunese in particolare dal comune di Savigliano è previsto per lunedì 8 gennaio l'inizio dei lavori di riqualificazione di piazza Schiaparelli un avvio fissato al termine delle festività natalizie deciso in accordo tra Comune e Ascom associazione commercianti per non penalizzare lo shopping del periodo natalizio la prima operazione sarà quella della sostituzione degli alberi in mezzo alla piazza dove ovviamente saranno mantenuti i posti auto sarà realizzato un passaggio pedonale protetto sarà installato un nuovo pianto di illuminazione e sarà rinnovato l'arredo urbano Veniamo ad Alba, capitale delle Langhe nel 2023 Alba ha perso 131 abitanti residenti a quota 31.282 calano pure gli stranieri negli ultimi 12 mesi 219 nuovi nati a fronte di 409 decessi in diminuzione anche la popolazione dei non italiani scesi a 3.722 Romena la principale comunità ma sentiamo quali sono i dati del censimento 2023 per Alba Il comune di Alba ha una popolazione residente di 31.282 abitanti 14.913 maschi 16.369 femmine Secondo i dati estrapolati dalla database comunale al 31 dicembre la popolazione residente è diminuita di 131 unità rispetto al 1 gennaio 2023 quando erano 31.413 i minori di 18 anni sono 4.500 gli ultra 65 anni sono 7.690 gli ultra novantenni sono 539 i residenti che festeggeranno 100 anni nel 2024 nati nell'anno 24 saranno 7 gli anziani ultracentenari i nati fino al 31.12.1923 saranno 12 nel 2023 sono nati 219 bambini residenti 92 maschi e 127 femmine di questi 36 sono bimbi nati da genitori stranieri che hanno avuto 12 maschi e 24 femmine i residenti morti sono stati 409 194 uomini 215 donne 12 morti in meno rispetto all'anno scorso quando erano stati 421 gli stranieri deceduti sono stati 5 gli stranieri residenti sono 3.722 1.686 maschi 2.036 femmine i minori sotto i 18 anni sono 692 mentre gli ultra 65 anni sono 250 rispetto all'anno precedente la popolazione straniere è diminuita di 50 unità infatti al 31 dicembre 2022 erano 3.772 gli immigrati presenti ad Alba provengono soprattutto da Romania Marocco, Albania, Macedonia del Nord e Bulgaria per quanto riguarda lo stato civile durante l'anno 2023 in città sono stati celebrati 88 matrimoni di questi 63 sono matrimoni solo con rito civile il rimanente 25 con cerimonia religiosa mentre nel 2022 erano stati celebrati 83 matrimoni 55 matrimoni solo con rito civile 28 con cerimonia religiosa nell'arco del 2023 ad Alba sono state celebrate due unioni civili le persone che hanno avuto la cittadinanza italiana nel comune di Alba sono state 176 una riduzione rispetto all'anno 2022 in cui erano state 226 la pagina dell'economia al calo delle bollette del gas è un segnale positivo per imprese e famiglie costrette a fare i conti per lungo tempo con costi energetici fuori controllo e quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla discesa dei costi del gas del 6,7% della bolletta per i consumi di dicembre 2023 rispetto a novembre comunicato da Arera la produzione agricola e quella alimentare in Italia assorbono oltre l'11% dei consumi energetici industriali totali secondo l'analisi della Coldiretti siamo quasi in chiusura ma siccome la festività dell'epifania è prettamente religiosa c'è anche una leggenda che è quella della Befana sentiamo qual è la storia della Befana che porta la calza ai bambini la vera storia della Befana vestita di stracci le scarpe rotte un cappellaccio in testa lo sciallo addosso la Befana è pronta a spazzare via con la sua scopa gli ultimi giorni di festa con l'epifania si chiude con l'allegria degli ultimi doni per i bimbi di tutto il mondo il lungo ciclo delle vacanze di Natale una festa all'insegna della tradizione popolare legata alle usanze contadine che rappresenta anche un momento di riflessione in coincidenza con l'arrivo del nuovo calendario pur essendo la prima festa dell'anno nuovo infatti è proprio nel giorno dell'epifania che si fa il bilancio dell'anno appena concluso e si mettono in cantiere i progetti per l'anno appena cominciato carbone o dolci nella calza portata dalla vecchina con la scopa si fruga per scoprire i risultati raggiunti l'esito di quanto ci si butta alle spalle ma anche i presagi sul futuro più prossimo la Befana è nell'immaginario collettivo un mitico personaggio con l'aspetto da vecchia che porta doni ai bambini buoni la sua origine si perde nella notte dei tempi discende da tradizioni magiche pre-cristiane e nella cultura popolare si fonde con elementi folcloristici e cristiani la Befana porta in doni in ricordo di quegli offerti a Gesù Bambino dai Magi ed è tutto si chiude questa edizione del nostro TG4 vi lascio alla vignetta di Gianni Soria buon proseguimento con i nostri programmi arrivederci alle prossime edizioni dei nostri notiziari soprattutto una serena festività dell'Epifania a tutti voi che ci avete seguito a tutti grazie a tutti